Gran finale per il cartellone culturale estivo promosso dal comune di Terlizzi. A chiudere il ricco calendario estate a Terlizzi, la terza edizione di Millumino di Jazz. La Kermesse ritorna con un cast d'eccellenza composto da virtuosi del jazz e autori di progetti discografici. La città è in fermento per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario che è raffigurata in quella magnifica opera sotto l'attore dell'orologio realizzata con quasi 15.000 fiori dei nostri fioristi grazie al comitato che ha avuto questa intuizione dell'infiorata. Pocchi minuti fa è terminato anche il primo simposio dei maestri canestrai che abbiamo tenuto qui a Terlizzi dopo un lungo evento organizzato da Terlizzi Experience con Anabiocia. Sulla scena della grande festa di Terlizzi anche i di Rotta su Cuba che celebrano i 30 anni del brano Gelosia. La travolgente ensemble, capitanata dalla voce di Simona Bencini, fa ritorno sulla scena musicale italiana con una tappa del nuovo tour partito lo scorso aprile. È una serata magica qui a Terlizzi. Noi amiamo la Puglia e la Puglia ci ama. Devo dire che in tutti questi anni abbiamo fatto tantissimi concerti. Non hanno mai mancato un nostro richiamo. Voi siete sempre stati presenti, anche perché credo che la Puglia sia una delle regioni più musicali d'Italia. Quindi ci fa piacere essere qua per festeggiare. Come dicevi tu, questo trentennale di Gelosia per noi è un traguardo importante. trent'anni di carriera, trent'anni di funk, nonostante tutto. Nel senso che comunque intorno a noi il mondo cambia, le mode cambiano.